Salve a tutti da Charlie Ray, direttamente sul cerchio di Stoiculatonvirus, non siamo qui per parlare del film, questo è il primo videoblog che faccio, anche se breve, dedicato agli otaku. Lemon Soda Otaku, per tutti voi, con un'immagine di Naruto sopra, cioè l'anima di Naruto, sempre questo, e poi Oran Soda Otaku, lo so, è poco, e poi sono anche con la barba lunga, però ragazzi, è un videoblog improvvisato questo qui, è il primo, nei prossimi vedremo di fare di meglio. Ciao a tutti da Charlie Ray, dal primo videoblog Otaku.